ciao a tutti allora raga video molto particolare praticamente io devo rispondere delle domande ma adesso capirete tutto non spaventatevi è successa una cosa pazzesca allora questa tipologia di video secondo me su youtube nessuno l'ha mai portata allora intanto lasciato un like un commento anzi lasciato un like poi un commento meglio che meglio che li lasciate dopo allora intanto vi lascio alla intro allora vi lascio la sigla e vi lascio la intro fatta da elena vedrete così capirete tutto perché spiega benissimo e poi risponderò a queste domande un pochino così non lo so vedremo come andrà allora vi lascio la sigla vi lascio a elena che vi presenterà il video praticamente e ci sentiamo tra pochissimo oggi scopriremo tutto quello che avremmo sempre dovuto sapere su paolo cian perdonate le condizioni pietose ma posto lavoro sono sempre ridotta tipo il signor boccio vineda che ha fatto pulizia nei bassi fondi di campo quindi preparatevi lo so che probabilmente avrete paura ma dovete avere coraggio perché stiamo per entrare nei meandri della verità e dei profondi segreti di paolo prima domanda per paolo qual è stato il primo motivo che ti ha spinto a aprire un canale youtube allora bellissima domanda ho già risposto tante volte ma cade a fagiolo perché comunque nuovi utenti che si sono aggiunti con la mia perdita del mio originale canale allora praticamente quale è stato l'era primo motivo il che il primo motivo che mi ha spinto a fare youtube a fare video aprire il canale praticamente era periodo covid quindi eravamo tutti in un momento un po particolare era l'inizio cioè l'inizio sì i primi mesi allora qual è stato il motivo intanto l'ho detto sempre e lo ribadisco uno il motivo era per combattere la mia super timidezza io non parlavo raga dal vivo con le persone parlavo pochissimo e mai mai non mi facevo mai vedere in foto non mi facevo mai vedere nei video quando si facevano foto video perché mi vergognavo già da piccolino non parlare davanti ad altre persone e anche davanti a una fotocamera che poi magari appunto un video che dovevo andare su youtube o in qualunque posto dove qualcuno lo potesse vedere era impensabile l'agapia quindi il motivo era per combattere la mia timidezza ecco questa paura di parlare davanti agli altri adesso che non ho più praticamente ne è rimasta sì un pochino però non quindi il primo motivo che mi ha spinto a fare youtube è combattere la timidezza poi la curiosità io amavo io amo amavo e amo youtube youtuber i video tutto un mondo che mi piace tantissimo quindi però è stata una cura contro la mia timidezza poi avete visto cosa è successo mi sono anche troppo stimidito bene adesso ripasso la parola aerea per le prossime domande non guardatemi così io non sorrido seconda domanda per Paolo ti consideri più geloso o più vivi e lasciavidere terza domanda per Paolo questa è una domanda tremenda pesantissima tenetemi qual è stata la cosa più schifosa infima e vigliacca che hai fatto per interrompere una relazione sentimentale silenzio chiacciale dom ok altra domanda per Paolo se tu dovessi decidere di vivere nel mondo di un libro in un universo alternativo fatto da un libro che libro sceglieresti che personaggio saresti e perché io qualche idea ce l'ho però suggerimenti non lo do Paolo mi dispiace non puoi barare su queste domande perché non sei stato informato prima il comitato comunque sia non ti concede nessuna chance di errore o rispondi o verrai disintegrato allora rispondo direttamente tutte e tre le domande visto che sono in una clip solo allora geloso o vivi e lascia vivere bella domanda io un po' geloso devo dire lo sono delle persone a cui tengo insomma e alle cose anche gli oggetti sono abbastanza geloso però non posso scegliere geloso perché non è una cosa ossessiva non è una cosa insomma quindi fortissima quindi scelgo il vive e lascio vivere assolutamente assolutamente secondo me è una delle cose migliori spesso e poi è questo quindi geloso lo sono ma non è siccome non è una cosa ossessiva non è una cosa che brutta come dire malata ecco non rispondo geloso mentre la relazione mi sono preso appunti per questa domanda perché per questo clip perché erano tre domande insieme se no non mi ricordo la relazione sentimentale la cosa schifosa no io a parte le relazioni sentimentali proprio serie serie non ne ho mai avuto sono durate poco perché insomma non sono mai stato lasciato o sì no dai comunque no una cosa schifosa no non l'ho mai fatta io rispondo a tutte le domande non l'ho mai fatta sono sempre mollato lasciato chiusa la relazione ecco con parole chiare tranquillamente dette le cose chiaramente insomma quindi no 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 cose schifose no non l'ho mai fatta in questo senso per chiudere relazioni sentimentali no dai no no poi in quale mondo si piacerebbe vivere quale personaggio oddio qua è già difficile perché io ho letto tanti libri tanti personaggi però alla fine hanno fatto sempre file brutte non hanno mai fatto belle vite quindi molto difficile molti questi libri hanno anche ambientati in situazioni epoche molto dure quindi non lo so sai qua è molto difficile così a due pochi secondi non riesco a rispondere ci ho pensato prima di avviare la registrazione del video ma non non lo so sai che non mi viene in mente forse risponderò nei prossimi vlog non mi viene in mente nulla tipo anche il libro che sto leggendo no era una vita dura no 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 non lo so il personaggio che ha fatto una bella vita non ce n'è secondo me oddio qua non posso rispondere tu mi hai detto secondo me tu hai avuto hai qualcosa in mente scrivimelo qua sotto se poi è quella che pensavi per me va bene continuiamo scusate ma qua non riesco proprio a pensarci a dare una risposta continuiamo vai Elena altra domanda che vorremmo fare tutti quanti hai mai litigato con qualcuno o hai mai fatto a botte con qualcuno no ho fatto a botte con qualcuno no come un fratello litigio da ragazzi da padrona più piccoli schiaffi pugni così calci non era uniero litigare tra fratelli discusso con qualcuno più che lì litigate grosse discussioni ma no io non sono così se mi conoscete allora botte con qualcuno assolutamente no anche perché io mi fanno così mi fa male cioè non sarei in grado di reggere il confronto con nessuno penso litigate verbali sì discussioni più che altro però no un po' di nervosismo magari mi hanno detto delle cose che non mi andavano bene però sì ti rispondo a tutte e due no perché le botte tra fratelli non valgono credo ecco poi continuiamo perché la roba qua è lunga ragazzi ci vorrà una pazienza mi raccomando tenetevi stretti al telefono perché non sappiamo quello che potrebbe succedere in questo viaggio intercalattico nelle meandri negli antefatti negli altri comunque pericolosissimi della mente di Paolo Gianni allora potendo scegliere senza limiti di spesa senza paure per aereo eccetera quale viaggio sarebbe secondo te il viaggio della vita con chi sceglieresti di partire e le motivazioni della tua scelta allora il viaggio della vita beh New York New York mio sogno come dicevi tu come dici tu nella domanda senza limiti di spesa senza pensare alla spesa ovviamente alla paura dell'aereo New York assolutamente sarebbe viaggio della vita più difficile è dire rispondere con chi tante persone con cui fare dei viaggi tante persone che voglio bene che sono simpatiche però non posso dire un nome perché mi servirebbe una persona che non ha problemi a girare a camminare io sono un pazzo quando vado in vacanza cammino chilometri per giorni sì ovviamente visite punti più turistici più famosi più principali ma mi piace infilarmi in stradine in periferia in posti che nessuno va a visitare delle città quindi mi servirebbe qualcuno che non ha problemi a camminare che ha voglia di girare che non ha paura di avventurarsi in posti della città che nessuno conosce insomma questo qua però New York sarebbe il viaggio della vita uno dei tanti è ovviamente però è il primo comunque e posso rispondere a chi mi porterei perché avrei tante persone che mi stanno simpatiche che mi vogliono bene che sarebbero ottimi compagni di viaggi però dovrebbero avere questa forza di camminare una settimana o quanti giorni da qua e di là senza stancarsi senza annoiarsi senza rompere ball e quindi ecco però New York New York Altra cosa interessante se tu dovessi scegliere di essere un animale quale animale saresti e perché? Allora se sarei un animale se saresti un animale quale animale vorresti essere e perché? Intanto vorrei essere allora intanto ci sono gli animali gli animali sono più o meno divisi in preda e predatori che tutti e due fanno una vita un pochino così perché la preda mettiamo il leone e la gazzella ecco il leone comunque deve faticare per magnà deve proprio deve seguire la gazzella deve correre deve starare la preda insomma che sia gazzella o qualcos'altro e per magnà deve faticare quindi però lui è forte è sicuro il leone non ha un predatore insomma nessuno se lo va a magnà quindi però ok questa è una parte ad esempio la gazzella c'è il mangiare più facile perché mangia l'erba la trova sempre insomma è facile però deve stare a tutta la vita ansiosa perché deve stare attenta al leone insomma e deve correre anche lei c'è quel famoso detto una mattina un leone si sveglia deve sapere che deve correre più della gazzella e di qua e di là quindi ci sono i pro e contro di essere tutti e due gli animali però ecco ci sono degli animali che non hanno dei predatori ad esempio tipo il panda il panda io adoro il panda potrei essere un panda perché comunque fa una vita tranquilla magna magna non ha predatori penso che nessuno si mangia il panda a parte l'uomo che è il suo danno però se dovessi scegliere io non posso non scegliere un animale che amo un animale forte ecco anche lui non ha un predatore e non deve neanche tanto faticare credo per cercare cibo anche perché lui può mangiare anche frutta quindi e parliamo dell'orso ecco io sono assolutamente un orso io mi comporto tutte le magliette con gli orsi tutte le cose con gli orsi o anche un fisico da orso o anche un buon carattere da orso anche se non sembra quindi assolutamente l'animale che io vorrei essere sì che appunto non ha predatori a parte l'uomo anche lì mamma mia sto uomo di cacca praticamente un orso io sono un orso io sono un orso raga dentro fuori dello stile di vita sono un orso che se non si vuole mangiare lo scogliattolino si mangia due mele ecco va bene quindi è l'orso assolutamente l'orso paolino altra serie di domande attualmente perché ovviamente la persona più importante della vita io penso che il 90% delle persone rispondere per tipo la mamma o comunque il papà un familiare un fratello una sorella ovviamente però mi piace che la domanda dice attualmente insomma in questo periodo e devo dire proprio la verità poi mi dice di spiegare se voglio anche di spiegare i motivi attualmente è il mio amico il mio amico che voi abbiamo sempre simpaticamente chiamato Salomone Mark Caltagirone e gli sono stati dati milioni di nomignoli e lui si chiama Sarkov e praticamente in questo ultimo periodo è la persona più importante perché è veramente veramente un amico è vero vero non ci sono mezzi fili non ci sono sotterfugio non ci sono però veramente è veramente lui ecco in questo momento attualmente ecco ovviamente attualmente però sono più di un anno insomma però andando del tempo sto capendo veramente che cos'è l'amicizia raga poi lo sapete che sono state dette milioni di cose su questa nostra amicizia e sinceramente poco mi interessa e ho scoperto veramente l'amicizia vera senza mezzi fili senza ok avete capito cosa intendo dire no quindi rispondo facilmente pensavo che era molto più difficile ma quella attualmente mi porta a lui comunque perché non mi ha detto della vita in generale quindi ecco spero che la risposta ti sia piaciuta adesso continuiamo con la prossima poi un'altra domanda interessante per Paolo potendo scegliere quale cibo vorresti essere e perché allora quale cibo vorrei essere quale cibo vorresti essere mi chiedi vorrei essere un cibo un cibo godurioso che fa godere le persone quindi vorrei essere un dolce anche se una piccola parte della popolazione mondiale non ama i dolci ma comunque i dolci fanno godere quindi vorrei essere un dolce non un dolce particolare tipo non un tiramisù che magari oppure non la che ne so un babà una torta di bere perché ognuno c'è il suo dolce che è il suo punto debole la sua punto debole insomma quindi vorrei essere il dolce che fa di più godere le persone è una cosa buona proprio che quando la mangi dici che buona come sto bene ecco poi dopo magari ti vengono i stessi di colpo ma questo è un altro discorso quindi vorrei essere un dolce il dolce che fa godere di più la persona quindi in generale sto dicendo non un dolce particolare perché ognuno c'è il suo godimento mangiando qualche cosa ecco quindi mi piace molto questa domanda una risposta è questa vorrei essere un dolce che fa impazzire le persone ecco perché secondo me i dolci si sono il paradiso in terra poi hanno la loro contraddicazione ovviamente ma i dolci secondo me dai c'è una piccola parte del mondo che non ama proprio i dolci ma sono persone malate non sono persone di questo pianeta a parte di scherzi comunque la risposta è questa un bel dolce super godurioso poi una domanda soft per intercalare prima che arriviamo a quello peggiore potendo scegliere qual è il tuo fiore preferito e perché il mio fiore preferito e perché ma se vorrei essere un fiore o così in generale allora allora io ho due mettiamo due fiori a me piacciono tutti i fiori ovviamente tutti i fiori sono belli però due fiori che sono i miei preferiti anzi al primo posto metto i girasoli che sono fiori un po' particolari seguono il sole appunto si chiamano girasoli non hanno una vita molto lunga credo ma come tutti i fiori penso e poi comunque producono dei semi quindi lasciano un segno perché producono i semi che si possono mangiare così ovviamente si può fare l'olio di girasoli quindi sono dei fiori molto particolari molto che lasciano il segno ecco poi comunque sono belli sono grandi si simbolo del sole appunto della luce della vita e però voglio mettere anche un secondo posto dei fiori un pochino così modesti che però sono bellissimi sono le margherite raga le margherite bianche assolutamente bianche classiche che sono lì un po' disfrattate semplici margherite invece sono bellissime le margherite raga e anche lì lasciano anche loro un segno perché se non sbaglio con le margherite magari una varietta si fa la camomilla adesso non vuole dire una castroneria ma mi sembra proprio questo però io dico il girasole la mia risposta comunque è il girasole ho voluto comunque accennare dare uno spazio alla margherita però il girasole raga assolutamente il girasole perché lascia un segno lascia qualcosa cominciamo con le domande cattive sei mai arrivato al punto di dire a una persona io ti odio basta non mi vuoi più non ti voglio più scusatemi nella mia vita e non voglio più saperne nulla di te se sì perché e chi sì sono tremenda la tua risata quando dici e chi no non posso dirlo ovviamente non posso dirlo però è successo un paio di volte assolutamente una persona persone glielo ho detto un paio di persone due o tre nella vita glielo ho detto li ho bloccati sia nella vita reale ovviamente ma anche in tutti i social in tutti i modi chi poteva contattarmi sms telefonate whatsapp instagram facebook telegram tutto 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 non ha possibilità non hanno possibilità queste persone di contattarmi perché sono successe delle cose mi hanno fatto tanto tanto male raga tantissimo da lì ho imparato tanto però si diventa più forti non posso dire chi mi dispiace però è successo assolutamente detto in faccia e poi bloccato in tutti i modi in tutti i laghi in tutti i posti quindi è successo da persone che mi hanno fatto male tanto a proposito di amicizia che parlavo prima ecco mamma mia lì sì che c'era non era amicizia raga non era amicizia e basta altra domanda per il signor Paolo Cialo qual è attualmente la cosa che ti preoccupa di più in assoluto o che ti sta mettendo ansia considerando anche il fatto di rispondere a queste domande fatta da una pazza furiosa sotto un piumone peloso col cappuccio della felpa in faccia che sembra Darth Vader ok direi che comunque questa è un'ottima cosa per sentirsi dell'ansia addosso questo video verrà comunque una roba improponibile ma tanto chi se ne frega per gli amici si fa questo altro viva Paolo Channel viva Paolino sempre e comunque yoohoo allora cosa mi sta mettendo ansia a parte queste domande no sei stata bravissima cioè sei stata umana molto umana molto umana lei no cosa mi mette ansia allora personalmente sto vivendo un periodo abbastanza si vabbè oddio ecco cominciano adesso le ecco delle ansie un periodo che ho passato un po' così questi due mesi però personalmente non ho ansia si la salute ovviamente è mia perché quando vai dal dottore comunque ti trova sempre un valore un pochino più alto ti preoccupi quindi la mia salute che in realtà adesso sta andando bene mi preoccupa la salute ecco l'ansia dei miei genitori perché i genitori fanno venire l'ansia perché sono stati poco bene hanno una certa età quindi potete immaginare di quale ansia sto parlando ecco questa ecco questa è stata forte nell'ultimo periodo e poi c'è un'ansia vi dicevo personale per me no io non ho paura di me cioè nel senso sì sono con queste immagini così un pochino paura la faccio però l'ansia in questo momento è il futuro del mondo i prossimi mesi i prossimi anni perché c'è questa questo odio generale c'è questo tutti vogliono fare la guerra poi spuntano ogni tanto presidenti che dicono prepariamoci alla guerra forse dobbiamo fare così forse dovremmo attaccare forse ci attaccheranno prepariamo le bombe prepariamo questo nell'Europa parliamo dell'Europa che una da quanti milioni centinaia di anni non centinaia no decine di anni è nella pace e non sembra che questa cosa stia filendo ecco il mondo mi mette un po' d'ansia ma come io mi sembra un po' vecchio che dico ormai io sono sono la mia vita l'ho fatta penso ai miei figli ai giovani però insomma devo viverci ancora qua 50 anni spero questo mi dà molto ansia la cattiveria e l'odio del mondo che c'è sempre stato adesso però si sta riaccendendo ecco mi dà molta ansia questa è una cosa seria quindi per quanto mi riguarda me la mia salute ovviamente però ci sta risolvendo sta andando bene i miei genitori mi hanno dato tanta paura tanta ansia perché sono stanno hanno una certa età insomma quindi si ha sempre paura quando stanno poco bene perché la loro reazione ovviamente del corpo è diversa da un ventenne e poi sì il mondo il mondo la risposta però potrebbe essere in questo momento il mondo l'Europa mi dà tanta ansia che non lo so cosa succederà ecco abbiamo finito con una cosa triste e seria però questa era la domanda quindi ho risposto l'ansia della guerra praticamente sì perché la guerra come dire la punta non dell'iceberg sì comunque mi impappiro anche parlando di cose serie ma tanto mi capite lo so insomma questa è l'ansia stiamo vivendo l'odio l'odio che c'è nell'Europa nel mondo è troppo 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 alto troppo forte non va bene questo sì che fa venire l'ansia raga comunque finiamo con una cosa bella con un mio bacino io ringrazio Elena per queste domande questa tipologia di video spero che vi sia piaciuta adesso io impazzirò nell'editarlo e niente ecco queste erano le prime domande poi magari ne arriveranno altre magari non faremo questo video dal letto ma magari seduti sul cesso ecco fammi delle domande sedute sul pc no dai questa è poco le vante elegante oppure sotto la doccia ecco domanda risposte sotto la doccia potremmo fare raga vi mando un bacio non è un video lunghissimo questo ma molto carino magari per la domenica sera se riesco a editarlo non lo so vediamo o ve lo metto in settimana vi mando un bacio lasciate un like e un commento mi raccomando rispondete e niente se volete anche commentare il più buono e lì peloso di Elena potete anche farlo mando un bacio a lei e a tutti voi mi raccomando sostenetevi venite a trovarvi su tutti i miei social prima o poi faremo un altro video domande e risposte io e voi come l'ultimo che è stato bellissimo preparerò un post e vi scriverete le vostre domandine curiose vi voglio bene ci sentiamo presto grazie di tutto ciao ciao